Noi eravamo. Noi eravamo. Abbiamo dato una mano a mettere in sicurezza la persona che c'è, no? Ma abbiamo ascoltato? No, lo sappiamo, ci facevamo le mani alle gambe. Siamo accorti perché c'era il collega che lo prendeva da terra e lo strasciavano. Abbiamo dato una mano e lo stavamo a casa. Ma avete avuto paura? Abbiamo sentito il buono. Il buono è il buono. Abbiamo visto il buono. Che facevamo? Lo lasciamo a volare. Abbiamo preso la tua parte. Una zona. E' anche solito. Abbiamo aspettato l'ambulanza. Abbiamo avuto un bombiere. L'ambulanza, lo sappiamo. Non c'era il centro, però lo sappiamo. E' un successo.